La guerra è finita! La brigata Garibaldi starà qui per un po'. Se sei stato fascista c'entra sempre. E che te sei dimenticato di essere stato fascista pure tu. Comunque guardi che questo non è un tavolo. Questo è l'altare del signore Anca. Parchino che crede. Che succede? Dio Dio Dio! Italia! Italia! Il segreto d'Italia, un film di Antonello Belluco, prossimamente al cinema. Notizia sul remake della serie TV anni Ottanta, l'uomo da 6 milioni di dollari. Allora, sembra che la Universal sia pronta a fare sul serio su questo progetto. Le indiscrezioni vorrebbero niente meno che Mark Wahlberg nel ruolo di Steve Austin, in questo nuovo franchise a grande schermo. Peter Berg, che ha appena diretto Wahlberg in Lone Survivor, è pronto a produrre il film e forse potrebbe anche stare dietro alla macchina da presa. Vedremo. Quindi voi continuate a seguirci perché presto vi daremo nuovi aggiornamenti sul progetto. A presto! A presto!